Buongiorno, questa è la rassegna stampa in breve di video 33. Oggi è venerdì 28 di dicembre, alternanza di sole e nubi su tutto il territorio regionale. Con l'aiuto della regia di Daniel Sumerer andiamo a vedere un'immagine registrata alle 6.30 di questa mattina sopra l'abitato di Brunico in Val Pusteria, come potete vedere all'orizzonte appunto nubi in transito e tratti di cielo sereno. Andiamo a vedere ora con l'aiuto della grafica le previsioni per oggi. Cielo variabilmente nuvoloso, il cielo sarà variabilmente nuvoloso con nubi più estese e compatte al mattino. Nelle vallate a nord soffierà il Fön. Vediamo anche la situazione in provincia di Trento, anche qui alternanza di sole e nubi con valori minimi e massimi che si attestano intorno a quelli registrati nei giorni scorsi. Bene, ora vediamo il dettaglio delle prime pagine dei quotidiani locali e nazionali che troviamo oggi in edicola. Iniziamo dall'Alto Adige. Chiuso il locale delle Lucciole, il questore mette i sigilli per due settimane al post di Cardano. Poi nel taglio alto c'è la politica, famiglia e migranti, accordo quasi fatto tra Lega e SVP. E poi la questione a 22, concessione a 22 per Bolzano e Trento, così si va alla gara. Nella fotonotizia, poi Albano e Romina Power, Bolzano esplode di felicità, 3.000 invisibilio per il concerto al Palaresia. Andiamo poi al Corriere dell'Alto Adige. Lega SVP, nodo toponomastica, compacera fretta, nuova legge prima della consulta. Bessone della Lega dice via i temi etnici. Giunta 8 ore di confronto, ma l'intesa slitta ancora, si riparte il 3 gennaio, due giorni dopo arriva in Alto Adige Calderoli. Poi nella fotonotizia, Podini e il ticket salva Dolomiti, a volte sono più verde dei verdi. L'imprenditore, il Tuenti, la politica in una lunga intervista negli interni. Andiamo poi ai quotidiani della provincia di Trento. Iniziamo con l'Adige, RSA congelate le tariffe, la provincia più costi, ma le rette non si toccano. La Giunta ha previsto il blocco della parte alberghiera per il 2019, firmata la direttiva. Poi negli interni la protesta in piazza contro i tagli di Fugati all'accoglienza. Più di 400 persone hanno partecipato alla manifestazione voluta dai sindacati per protestare contro i tagli decisi dalla Giunta Fugati alle politiche di accoglienza. Andiamo poi con il quotidiano Trentino. Medici sul piede di guerra, scontro sui maxiambulatori, la CISL, sciopero di 4 mesi. Poi anche qui nella fotonotizia, in piazza contro i tagli all'accoglienza. E negli interni, nelle cronache, allarme, incendio in hotel, 20 persone evacuate a Campiglio, l'ombra del dolo. Andiamo poi con il quotidiano in lingua tedesca. Iniziamo con il Dolomita in cui in apertura si parla della manovra finanziaria che ripercussioni avrà soprattutto nei rapporti con l'Unione Europea e anche ovviamente a livello locale. E poi negli interni l'apertura della pagina dell'Alto Adige invece è dedicata alla politica con le trattative tra SVP e Lega. Andiamo poi con la Tagest Zeitung. Qui invece in apertura si parla di donatrici e donatori di organi. Sono 22.550 gli altoatesini iscritti nei registri. Tutti i numeri e tutte le questioni da sapere rispetto a questo argomento nell'approfondimento all'interno. Poi andiamo al Corriere della Sera. Violenza, razzismo, calcio, sotto shock, la morte di un ultranero azzurro, gli insulti a Kouloubali, sanzioni all'Inter. La Serie A non si ferma mentre si parla dei fatti di Milano prima della partita tra Inter e Napoli. E poi andiamo a vedere anche la manovra. Più tasse sul volontariato, il governo fa retromarcia. Sarà cancellato il raddoppio dell'IRES per il terzo settore. Passiamo poi al sole 24 ore. Dalle bande musicali a clientele e consulenti, raffica di 106 mance. Da 60.000 euro a 10 milioni, tutte le micronorme destinate a finalità mirate. Si parla di legge e di bilancio. Poi nel taglio centrale si parla anche di reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza da 5 a 18 mesi. Lo sgravio per l'impresa che assume tutti gli incentivi riportati nell'articolo. Bene, con questo ho terminato con i giornali. Vi segnalo alcuni appuntamenti da non perdere in regione e in provincia. 29 e 30 di dicembre il tour de ski a Dobbiaco per gli amanti dello sci nordico, un appuntamento da non perdere. Poi il 30 di dicembre la magia alla foresta natalizia con gli spettacoli tra le 15 e le 16. Poi il 30 di dicembre il Bolzano ospita l'Innsbruck al Palahonda. Si parla ovviamente di hockey su ghiaccio. E invece il 31 di dicembre, sempre alla foresta natalizia Forst a Foresta, lo spazzacamino con due spettacoli intorno all'ora di pranzo e poi in serata. E poi il primo di gennaio atteso il tradizionale concerto di Capodanno al Cursal di Merano. Bene, con questo ho terminato. Non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi una buona giornata. Grazie.